Due World Premiere per Porsche, la 911 GT3, la nuova versione della più estrema delle 911, perfetto punto di contatto e diffusione fra una vettura stradale e la pista. E poi la nuova Panamera Turbo Sport Turismo, che è questa versione Shooting Brake della seconda generazione della vettura della casa di Zuffenhausen. Pietro Innocenti è amministratore delegato di Porsche Italia. Era una versione molto attesa questa? L'avevamo vista un po' di anni fa, se ricordi a Francoforte, finalmente è arrivata e devo dire che ha cominciato a destare moltissimo interesse da parte dei nostri clienti. Cos'ha di diverso? Praticamente è un po' più confortevole perché ha un po' più di spazio per i passeggeri nel posteriore, c'è la possibilità di avere un terzo passeggero anche, quindi un 2 più 1 nella parte posteriore. Un classico 4 posti più 1. Esatto, ha un pienale di carico più basso, quindi un po' più agevole anche per chi porta molti bagagli e anche una chicca di aerodinamica perché ha questo spoiler adattivo che si alza quando si supera una certa velocità. Tutto il resto è praticamente identico alla Panamera. Ecco, segue il successore a Panamera che continua ad avere ottimi riscontri di vendita anche in Italia. Molto buoni, sì, stiamo andando veramente molto bene anche sulle versioni ibride, fra l'altro ne approfitto per dire che oggi presentiamo anche la versione top di gamma della Panamera che è un ibrido perché è il Turbo S i Hybrid e ha 680 cavalli. Ecco, parlando infatti di sportivissime, gli amanti della purezza sportiva Porsche attendevano questa? Sì, ovviamente questo è il massimo di quella che è la nostra icona, la 911, una versione rinnovata con un motore nuovo di 4 litri, 500 cavalli di potenza, 550 Nm di coppia, tantissime novità da un punto di vista aerodinamico, soprattutto nell'anteriore ma anche nel diffusore posteriore, cerchi carboceramici di serie, ruote sterzanti a posteriore di serie. È una novità molto importante, la macchina arriva di serie con il PDK a 7 marce ma c'è la possibilità di ordinarla anche con il cambio a 6 rapporti manuale.